Tutto a posto, sali pure tu, vieni. Allora, come potete vedere a Napoli stasera non c'era nessuno. Si tratta di una manifestazione violenta, di negazionisti, ok, violenti e irresponsabili senza mascherina. Là in mezzo ci sta uno dei covidioti che è morto speso a terra. È morto con la GVC, è stato benissimo, ha pigliato il covid e è sbattuto a terra. De Luca, ma fammi capire una cosa, ma sta gente qui stasera va tutto quanto in corpo cotugno, oggi stai pigliando tutto quanto per il culo, ma non funziona così, non attacca con tutti, De Luca. Mascherine, soldi, i banchi sono soldi, i banchi sono soldi, i camici sono soldi, gli ospedali per i dirigenti amici tuoi sono soldi, è vero. E allora, i bambini tutti il giorno si devono cambiare la mascherina tre o quattro volte, devono stare a un metro di distanza, però il giocatore calce in serie e asce, ma non è giocato, e non giocano con la mascherina, ma fammi capire una cosa, ma chi vuole prendere il culo? Ma devo dire una altra cosa, no? Sopra al bugiardino del tampone sta scritto, se esci positivo non è detto che sia covid, se esci negativo non è detto che non è covid, ma fammi capire una cosa, ma questi tamponi che ci faccio mi trovano, ma fammi capire, ma sta gente qui, ma mi viene a dire che siamo tutti malati, vieni a fare un tampone a me, vieni a fare un tampone a me, fammi capire, fammi capire un tampone a me, e fa una legge, e fa una legge, non un'ordinanza regionale, non il DPC, io non ho già chiesto per me, se ti faccio in casa, io non ciro con fogliettina, latrina!